Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con Borgo in Fiore, iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Agropoli in collaborazione con la Proloco Sviluppa Agropoli e il Forum dei Giovani. La manifestazione, giunta alla terza edizione, rientrà nell'ambito dell'iniziativa Comuni Fioriti. Le finestre, i balconi, i portoni, i vicoli e gli angoli più suggestivi del centro storico saranno allestite con decorazioni floreali. Per il terzo anno consecutivo l'amministrazione partecipia a questo concorso nazionale chiamato Comuni Fioriti e all'interno di questo concorso, a livello locale, il Comune organizza un ulteriore concorso che è Borgo in Fiore, durante il quale tutto il nostro centro storico verrà abbellito da fiori, colori e profumi che si allineano alla flora mediterranea e alle tematiche del Borgo, alle bellezze architettoniche e culturali del nostro centro storico. Quindi anche per la Proloco è un grande riconoscimento, abbiamo accettato subito sia noi, Proloco, che i Forum dei Giovani, la collaborazione con l'amministrazione per l'organizzazione di questo bellissimo evento e quindi siamo felici per il terzo anno consecutivo di partecipare a questo concorso nazionale. Tante le novità di quest'anno messe in campo per un coinvolgimento sempre maggiore dei cittadini del centro storico. Come sempre ci saranno le tre categorie, però quest'anno abbiamo praticamente fatto una piccola modifica. Infatti avremo la categoria finestre fiorite, la categoria balconi e scorci fioriti e la categoria portoni fioriti. Quindi ci sono sempre i primi tre classificati, al primo classificato c'è un premio di 200 euro, al secondo 150, al terzo 100 euro. La prima novità è che a differenza dell'anno scorso, in cui ai tre classificati veniva dato anche un buono da spendere in prodotti floreali, quest'anno questi buoni sono stati tolti ai primi tre classificati e con questi soldi sono stati creati 15 buoni dal valore di 20 euro ciascuno che verranno praticamente assegnati a quelle persone che non sono riuscite a salire sul podio. Quindi è una sorta di premio di consolazione comunque per premare l'impegno e la partecipazione. Poi un'altra novità è praticamente la formazione di una cartina, che è questa qui, praticamente abbiamo fatto questa cartina del borgo in fiore in cui vengono indicati tutti i punti di interesse principali e poi una volta che ci saranno state le iscrizioni verranno proprio precisamente indicati tutti i punti in cui ciascun cittadino ha effettuato delle decorazioni floreali. Quindi è una novità per agevolare il turista ma anche il cittadino agropolese che si reca sul centro storico per vedere questo evento. E poi la terza novità è praticamente un concorso fotografico, cioè cartolina del borgo fiorito. Quindi chiunque può fare una foto, la partecipazione è gratuita, la foto deve essere inviata a una specifica mail che richiama proprio il nome del concorso e poi praticamente il vincitore vince una macchina fotografica professionale dal valore di 300 euro e i primi cinque classificati avranno la possibilità di inviare le loro foto sul brochure proprio nazionale citando l'autore, quindi è una bella opportunità. Il sito da tenere sempre in considerazione è quello della Prologo, che Domenico ci ricorda qual è? Prologo sviluppagropoli.it Il concorso Borgo in Fiore è il nostro personale omaggio alla primavera, afferma il sindaco Adamo Coppola che diventa un motivo in più per visitare la nostra bella città. Importante è la collaborazione fra ente comune e cittadini, ha sottolineato il sindaco. Solo così si può innalzare il livello qualitativo della città. La grande soddisfazione è il fatto che l'evento funziona perché c'è una collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni e cittadini. Noi vogliamo promuovere e spingere questo modello. Se esiste una collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione comunale si lavori insieme in un'unica direzione, io credo che il successo è assolutamente alla portata di mano e credo che noi dobbiamo andare decisi in questa direzione. Per questo motivo sto lavorando con l'associazione dei commercianti, degli operatori turistici e con i cittadini direttamente perché no, per fare in modo che le cose vadano meglio. Noi ce la metteremo tutto. Il successo di Coppoli in Viore è un segnale importante che queste cose, se si fanno con passione e soprattutto, ripeto, sottolineo, insieme, possono avere un anno successo.